ciao ragazzi ciao ciao noi siamo Utonia e questo è il nostro salottino bellissimo dai benvenuti al nostro terzo vlog oggi tratteremo alcuni argomenti tra cui il live passato della scorsa settimana quindi no abbiamo portato un brano dei Nine Inch Nails closer Manuel ci ha assegnato quello lì siamo stati contentissimi di suonarlo perché l'abbiamo fatto bene ragazzi sì sì ci tenevamo tantissimo poi erano i nostri ascolti degli ultimi mesi proprio di Matteo quindi ci tenevamo proprio tanto sì è uscita bene la scenografia era da paura hanno fatto un lavoro veramente assurdo i ragazzi lì dietro l'accio i ballerini shake e i fonici le costumiste a proposito di costumiste io ero vestito da sposa no questo perché la sposa andava entrava in contrasto con le lyrics e tutto il concept insomma che poi Manuel ha spiegato benissimo inizio puntata e a fine esibizione che andava da paura sì ribadiamo che a noi è piacere un voto abbiamo ricevuto delle critiche da mica Erraton ma insomma ecco come noi pensiamo un po' tutti ma volevano arrampicarsi sugli specchi sì oppure comunque forse era un po' strategia diciamo esatto sì però siamo contenti insomma ecco di averli messi in difficoltà a tal punto di non sapere cosa dire perché comunque l'esibizione era una figata secondo noi ci siamo divertiti un botto speriamo anche voi e poi cosa è successo che altro abbiamo fatto c'è stata l'eliminazione di Cosparia è vero un bacione a loro la prima eliminazione ci mancano perché comunque facciamo colazione con noi hanno sempre un po' del nostro club aereo West Valley a Bengala no bello e quindi se ci mancano saluto a loro grandissimi musicisti e a loro dedichiamo appunto la formazione bengalonia no facciamo vedere le grafiche 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 di aereo ragazzi ma questa è di Lex di Bengala 5 questa sempre di Lex mi sembra sì sì e poi c'è questa di mamma aereo esatto che ci sono anche le date c'è Brano c'è Vedri Torre venute e Castelfranco e ne saranno aggiunte altre questa qui alla pagantina fatta da aereo bellissima a volte con gli occhiali e sicuramente faremo litigheremo per per chi si terrà questo questo artwork verissimo questo è il nostro album bengalonia e niente abbiamo preparato insieme a Laccio e Shake e con Manuel davvero una bella una bella scenografia ce ne sarà da divertirsi non vi spoileriamo nulla ma ogni volta c'è un qualcosa di nuovo che sorprende anche noi quindi sicuramente sarà molto abbiata stammatizziamo anche un po' perché comunque Closer era assurda tutto quanto spaccettature elettronica però anche un po' pesante il tema noi fieri di aver un po' stuprato la mente degli italiani con quel brano questo è il prossimo la prossima cover è rilassante quindi ragazzi ci vediamo ci sarà da divertirsi ragazzi ve lo assicuriamo quindi vi lasciamo la prossima puntata che manca ci vuol dire qualcosa del nostro beppe nazionale stasera apriamo la pizza guardiamo il derby d'italia inter milan mamma è l'interista però quindi vediamo come va e poi insomma vogliamo dire che comunque noi siamo tutti e tre della Lazio e non troppo però si simpatizza ciao ragazzi ciao 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 scostamela stoppare stoppare stoppare